Ribera e il consorzio di tutela Arance di Ribera DOP sono tra i protagonisti del travel video Profumo di Zagara, un lavoro promosso dal distretto produttivo Agrumi di Sicilia, che punta sulla promozione dell'isola e soprattutto delle sue eccellenze agrumicole. Un lungo e coloratissimo itinerario fra gli agrumeti DOP, IGP e Bio, sparsi in cinque province siciliane, supportato dal ritmo fanchisicolo degli Iacaranda, giovane band del Catanese. Profumo di Zagara, ma anche i paesaggi, i monumenti, le piazze, i mercati, le tradizioni e i volti made in Sicily. I comuni protagonisti del travel video, oltre a Ribera, sono Cattolica Ereclea, Realmonte, Agrigento, Taormina, Acireale, Acitrezza, Marzamemi, Noto, Palermo, Bagheria e molti altri. Il travel video è un invito a programmare un viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo tra le vie della Zagara, ossia sette itinerari elaborati con l'associazione Gusto di Campagna, nei territori di produzione delle sue eccellenze agrumicole. Tra gli itinerari, la via dell'Arancia di Ribera DOP, in una commistione di visite escursionistiche e degustazioni, un percorso che va da Sciacca alla valle del fiume Verdura, per raggiungere Ribera, vera patria dell'Arancia Navelle Riberella. Un itinerario per intenditori, che prosegue verso la riserva naturale foce del fiume Platani, sino a Realmonte, con sosta nei pressi della maestosa Scala dei Turchi. Lungo il percorso porta Empedocle, città natale dello scrittore Andrea Camilleri, Agrigento, e il suo giardino della Colimbetra, giardino di agrumi del Fai, e la valle del dei Templi. Per concludere, un'escursione sui Monti Sicani, per assaporare le tradizioni e la cultura rurale del territorio. Agrumi, turismo e territorio, per scoprire e conoscere una delle anime che nasconde la provincia del Grigento.